La cagnolina Camilla abbaiava senza sosta da due giorni. Finalmente qualche passante di via Cardin a Mortise ha cominciato a chiedersi se fosse successo qualcosa alla sua padrona, una donna anziana sola. E così sabato sera è partita la chiamata al 115. I vigili del fuoco, usando una scala, sono entrati nell'appartamento della donna e hanno infatti trovato una signora anziana caduta a terra da due giorni che non riusciva più a rialzarsi. La donna dopo i primi soccorsi dei vigili del fuoco è stata presa in cura dal personale del suo M118. La cagnolina Camilla è stata assistita, coccolata e dissetata dai pompieri con ben due ciotole d'acqua che l'animaletto si è bevuto una dietro l'altra.